ciao a tutti bentornati sull'antimeta siamo i lorenz e che robe e oggi parliamo col presentarvi un nuovo mazzo appena sfornato del nostro buon che robe ovvero l'ex mazzo liliana ormai debellato il mazzo liliana zombie è stato smantellato ed è stato creato al suo posto il mazzo di tergrid dea del terrore direttamente da caldeim abbiamo questo dio 4-5 minacciare costa 5 che dice ogni volta un avversario sacrifica un permanente non pedina o scarta una carta permanente puoi mettere quella carta sul campo di battaglia sotto il tuo controllo un cimitero e l'intero mazzo si basa appunto sul far scartare o sacrificare gli avversari dopo ci sarebbe anche l'altra parte del comandante la lanterna di tergrid ma penso che non la userò mai tappa un giocatore il giocatore non sacrifica un permanente non terra o scarti una carta oppure tappa 4 stappa la lanterna di tergrid ma penso che non l'userò mai perché praticamente questo mazzo è incentrato proprio sul comandante al 100 per cento quindi ho messo dentro un qualche carta per proteggerla sperando di riuscirci non è un mazzo molto budget perché vabbè che avevo praticamente quasi tutto in casa ma facendo due più due mi è risultato un costo superiore 300 euro ma va bene così deve fare male e quindi deve essere non è stato ancora provato però le carte promettono bene partiamo dal comparto artefatti iniziamo con una bella cittadella di bolas che sta sui 3 euro circa puoi guardare la prima carta del tuo rimorio in qualsiasi momento puoi giocare la prima carta del tuo rimorio se lanci una magia in questo modo paga punti vita al posto del suo costo di mana si praticamente paghi punti vita al posto di costo di mana poi sacrifichi i tappi e sacrifici i permanenti non terra ogni avversario per 10 vita questo è molto utile per velocizzare le giocate poi abbiamo la lancia delle tenebre questa è della nuova teros sta a 12 euro questa non era consigliata ma ho voluto metterla dentro lo stesso perché da più uno più uno travolgere è quello che mi interessa di più il legame vitale poi un bel effetto secondario tappa 1 i permanenti contatti ai tuoi avversari perdono un antimalocchio indistruttibile fino alla fine del turno carino poi abbiamo la petra della mente che sta a niente come un'accia come un'accia tappa giungini in colore oppure tappa 1 tappa sacrifica e peschi ci sta un sasso un sasso poi c'è la corazza del comandante una cosa molto buona per proteggere il comandante che questa sta circa sui 10 euro la creatura equipaggiata prende più 3 più 3 e ha protezione da ogni colore che non è nell'identità del colore del tuo comandante praticamente in un monocolore ti protegge tutti gli altri colori esatto sfruttata al massimo esatto protezione da tutto ciò che non è nero esatto e poi equipaggiata il comandante 3 in posto di 5 ed entra 1 quindi con un poco abbastanza fa esatto poi abbiamo gli schinieri dei fulmini anche questi stanno mica tanto 3 euro circa la creatura equipaggiata a rapidità e velo mi sembra velo velo e rapidità equipaggiare a zero quindi anche questa ottima bene passiamo al reparto incantesimi anche qui ne ho messi abbastanza forse provandola e magari ne toglierò qualcuno celebrare la ricchezza costa 5 artefatto di excellent costa anche 8 euro questo artefatto non me lo aspettavo ti fa vincere la partita ma pensavo costasse un po' di meno no no ciao ogni quale volta una creatura contata ad un avversario muore crea una pedina artefatto tesoro in colore come un sacrifico questo artefatto aggiungi mana bla 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 all'inizio del mantenimento se contano i 10 o più tesori vinci la partita calcolando che il mazzo è incentrato sul far sacrificare creature a tutti non è difficile avere 10 pedine tesoro questo con excellent lo tirano nella schiena infatti questo qua è per quello che dicevo 8 euro mi sembra strano poi se abbiamo firexian reclamation rivendicazione di firexia costa circa 1 euro quasi 2 euro ma pochissimo però è molto utile perché entra 1 tappi 2 paghi 2 vite fai tornare una carta creatura dal tuo cimitero nella tua mano ed è questa qui è molto molto utile visto che il mazzo fa sacrificare non solo agli altri ma anche a se stessi che è anche utile per il comandante che quando diventa pesante lo fa andare al cimitero esatto l'etami di Erebos è fortissimo è fortissimo infatti costa anche 9 euro questa carta ha lampo e ogni volta una creatura che controlli muore ogni avversario sacrifica una creatura ecco questa è proprio va a braccetto con Etergrid adesso la teniamo lì perché c'è anche il nostro Erebos sono gli occhi gli occhi di Erebos poi abbiamo la rinascita dell'antico non sta a niente però è fortissima perché ogni avversario sacrifica una creatura o un planeswalker e già che dice ogni avversario ci sta di brutta quindi quando entra tutti gli avversari sacrificano creatura o planeswalker esatto poi un avversario scarta una carta e questi due effetti vanno perfetti per il comandante e dopo mette sul campo di battaglia sotto il tuo controllo una carta creatura o planeswalker e avversario da un cimitero quindi un cimitero qualsiasi esatto quindi sia il tuo che quello della base esatto ed è perfetto poi abbiamo nulla va sprecato questa non mi aspettavo che costasse così tanto costa 16 euro circa questa è uscita da un mazzo commander sì questa è uscita da un mazzo commander e costo 2 ti dice ogni qualvolta un avversario scarta una carta creatura o una pedina creatura crea una pedina creatura zombie 2-2 ogni qualvolta un avversario scarta una carta terra aggiungi due neri ogni qualvolta un avversario scarta una carta non creatura non terra pesca una carta quindi col comandante in campo e questa vai avanti molto molto bene e l'ultima abbiamo cupidigia grid avidità esatto quello di grid no grid significa avidità quello di qualsiasi cosa c'è ovunque grid diceva cupidigia il traduttore più sempre mkn c'è il grid tappa 1 paga due vite e pesca una carta ci sta visto che il nero non è che peschi così tanto bene passiamo a planeswalker bello nutrito anche il planeswalker ne ho messi forse un po' troppi però si può sempre modificare abbiamo la vecchia Liliana del Lord Atroce costa un po' da giocare però entra già a 6 c'ha l'effetto passivo che ogni volta una creatura ai controlli muore pesca una carta che è già buono ti fa un po' di board e all'occorrenza ogni giocatore sacrifica due creature se poi per caso riesci a fare il meno 9 gli adversari sacrificano tutto quindi diciamo che vinci però vinci anche senza vinci anche senza rigiocarti col comandante se riesci a far sacrificare tutto con lei praticamente è una vittoria ma non te lo faranno fare poi abbiamo Liliana del Lord Atroce costa tipo 17 euro quella più costosa mitica si invece 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 Liliana Vess 5 euro ce la cavi si poi l'hanno stampata impara a chiesse un giocatore deve essere lo scarto una carta infatti un giocatore non è un avversario poi meno 2 passa nel 6 rimorio per una carta per rimescola il rimorio e metterla in cima ci può stare un tutore e meno 8 mette in gioco sotto il controllo tutte le carte in tutti i cimiteri ci può stare si insomma questa non è eccezionale no però ci può stare poi ci abbiamo Liliana risvegliatrice dei morti sta a 4 euro neanche penso sia una delle più scarse più 1 ogni giocatore scarta una carta ogni giocatore che non può farlo per 3 vite il meno 3 nel cottura del bersaglio prende il meno x 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 il numero di carte nel tuo cimitero il meno 7 ottieni un emblema con l'inizio della combat nel tuo turno metti nella cottura del bersaglio dal cimitero da un cimitero un cimitero in campo di battere sotto il controllo e prende rapidità non è granché si può togliere se vedo che non gira molto poi abbiamo Liliana dei lemi oscuri questa sta a 11 euro ed è molto potente perché ti fa con la prima abilità rampare una terra in mano con la seconda ti fa prendere più x più x o meno x meno x fino al fine del turno a una creatura dove x è il numero di paludi che controlli e il meno 6 ottieni un emblema con ogni palude a tappa aggiungi 4 neri quindi questo è molto utile per velocizzare il mazzo e in più ci abbiamo non si capisce come cavolo pronunciarlo tevels zzat flagello degli stolti più 2 crea 2 pedine quindi fa board più 1 puoi sacrificare un'altra creatura o un planswalker se lo fai pesco 2 carte poi pesco un'altra creatura poi pesco un'altra carta se la creatura è sacrificata e non comandante vabbè per pescare qualcosina e meno 10 prende il contratto di comandanti mette sul campo di battaglia il contratto di comandanti della zona di comando lui potrebbe essere un comandante però vabbè mi hanno messo più che altro che fa board e fa pescare e sta a 8 euro lui comanda l'agent anche lui ma si poi abbiamo un reparto istantanei penso che il reparto più scarno di questo mazzo più economico anche esatto abbiamo l'ombra di Tergrid che dice ogni giocatore sacrifica 2 creature poi c'è Fortel a 4 che era non ricordo più come si dice Fortel ah si quello che predire predire ecco che lo paghi 2 inizio del turno l'esilia faccia in giù e poi più avanti pagando 4 lo lanci esatto che è molto molto forte invece che costare 5 costa 4 si non è un grande però intanto se ti liberi c'è del bani in avanzo lo metti in esilio e ciao e lì poi ci abbiamo editto improvviso battibaleno dovrebbe essere split second forse si battibaleno beh comunque quello più veloce dell'istante esatto target player sacrify ecreto semplici dopo abbiamo frantumazione dell'anima ogni avversario sacrifica una creatura o un planswalker con costi di mana maggiore tra le creature e i planswalker che controllano ci sta buono questo questo qui si chiama rito oscuro e praticamente capi 1 aggiunge 3 neri l'ho messa così perché potrebbe essere utile ma potrebbe essere che la tirerò via poi abbiamo la caduta dell'eroe esatto costosa tra le instant 1,64 euro distruggi una creatura un planswalker semplice e poi trionfo di Liliana ogni avversario sacrifica una creatura se controllano l'impresa di Liliana ogni avversario scarta anche una carta ci sta che ce ne sono parecchie si infatti ci sono 4 Liliane riuscirò a usarla spero ok passiamo alle stregonerie che ce ne sono abbastanza di stregonerie eh c'è un bel mucchiettino esatto c'è un bel mucchiettino di stregonerie abbiamo dicerie crudeli e dice lì i crudeli infliggono un danno ogni avversario ogni avversario scarta una carta poi mette nel proprio cimitero la prima carta del proprio grimorio e guadagna un punto vita per costare 1 questa fa abbastanza si si poi abbiamo un spasto agli squali così distrugge una creatura non tretone e bersaglio eh beh insomma uno spacchino uno spacchino dai ci sta uno spacchino si può togliere poi full art foil fa ben vedere era bella quindi era bella quindi è stata messa dentro si potrà togliere per qualcosa di più forte ma bisogna trovare qualcosa di più forte la tua carta preferita leggere le ossa perfettizzi due peschi da carta e perdi due vite perfetta per questo mazzo poi abbiamo regolare i conti questa costerà niente si si tutte queste che non sto pronunciando comuni e non comune non costano niente si circa niente circa niente ecco esili una creatura di bersaglio metti due segnini di fedeltà su un plans walker di controlli l'ho messa più che altro perché è esilia e visto che ho tanti plans walker si ci sta due fedeltà in più possono aiutare e possono essere pericolosi esatto molto pericolosi flusso arterioso ogni avversario scarta due carte se controlli un vampiro ogni avversario per le due vite tu vengono due vite ogni avversario scarta due carte a costo tre per noi è solo un vantaggio ci saranno tanti vampiri in questo mezzo? no mi sa che ce n'è uno uno massimo due però non mi interessa fare vite con quella carta ma niente adesso chiedevo solo per abbiamo andiamo poi esantema ogni giocatore perde un punto vita scarta una carta sacrifica una creatura poi sacrifica una terra anche questa per essere un costo due è overpower perché ogni giocatore vabbè che è ogni giocatore ma fa tante cose sì sì fa tante cose però dice ogni giocatore anche te sì però calcolando che faccio sacrificare una terra a ogni avversario anche io ne sacrifico una ma metti che siamo in in quattro mi prendo tra terra dopo quindi perfetto è un permanente cavolo è vero è un permanente non pedina dice sacrifica un permanente non pedina non pedina incantesimi planeswalker artefatti terre è cavolo sì sì è insomma è forte è cattivissimo poi abbiamo l'incantesimo dell'antico che l'ho messa perché c'ho un po' di planeswalker metti che ne ho in campo due o tre me ne spacco due che mi sembrano meno utili in quel momento puoi spaccare anche quelli dell'avversario posso spaccare quelli dell'avversario ma posso spaccare anche i miei distruggi in qualsiasi numero di planeswalker bersaglio scegli un planeswalker controlli metti due signori infedeltà su di esso per ogni planeswalker rispetto in questo modo ah sì fai un bel potenziamento quindi metti che c'ho Liliana dell'Ordatroce le altre due planeswalker il meno di Liliana è il più forte quindi mi sa che punto su di lei c'è una combinazione interessante sì sì poi abbiamo mai è tornato mai distrugge una creatura o un planeswalker è tornato dice deve essere lanciato dal cimitero come stregoneria esige una creatura bersaglio una carta bersaglio da un cimitero crea una pedina e una creatura zombie 2-2 nera mai è tornato stava un euro e mezzo starà no sta anche a meno non sta niente non sta niente talk size questo ruba pensieri sta a 13 euro e 79 centigri ma certo è giocato modern ovunque eh esatto uno scartino il giocatore bersaglio eh sì rivela la propria mano io scegli una carta non terra da essa il giocatore la scarta e io perdo due vite quindi gli faccio scartare qualcosa di pericoloso eh poi se diamo intento diabolico che sta a 20 euro 20 euro 20 euro intento diabolico sta a 20 euro però ci sono rimasto malissimo anch'io come costo addizionale per lanciare questa carta sacrifica una creatura cerca nel tutore sì è un tutore cerca nel grimorio per una carta la metti in mano e poi mescoli tutore e tutore costa sempre tanto eh sì poi abbiamo maledizione necrotica costa 6 ogni giocatore sacrifica 6 creature crea 6 pedini creature zombie 2 2 nere tappate questa l'ho messa perché 6 creature sacrificate in un sol colpo anche te sì sì anch'io però mettiti qui magari io posso anche permettermelo in teori dopo c'è sempre il momento per usarla per evitare di farsi del male da soli poi abbiamo l'onnipotenza bisgregata niente anche questo no sì infatti niente niente ogni giocatore perde metà dei suoi punti vita poi scarta metà delle carte nella mano poi sacrifica metà delle creature che controlla rotonda per accesso ogni volta ecco eh questa qui è utile poi abbiamo selezione necromantica sta a niente il soggetto delle creature poi rimette sul campo di battaglia sotto controllo una carta creatura messa in un cimitero in questo modo è una zona nera aggiunta su altri tipi colori esiglia la selezione necromantica una fratta ci può stare sì sì va bene ci serve anzi una fratta poi abbiamo risvegliare gli antecessori ogni giocatore scarta tutte le carte nella mano poi crea altre tante pedine che attura zombie 2 e 2 nere quindi ogni giocatore scarta tutte le carte e ogni giocatore si fa altre tante pedine però insomma a meno li fai scartare la roba e tu ti rigiochi sicuramente qualcosa in più ti fai anche te delle pedine se hai qualcosa in mano se si puoi scartargli la mano infatti è sempre una buona roba hanno meno risposta dopo un giocatore bersaglio scarta la sua mano costa 7 fine delle furbate ci può stare sì sì è sicuro ci può stare pesante però eh sì però insomma la piaga va bene la piaga da grande di fuoco dovrebbe stare a 10 euro come carta ripeti il seguente procedimento x volte anniversario per 3 vite non è che quel giocatore non sacrifici con permanente non terra o scarti una carta quindi perfetta e poi c'è il tutore macarbo che sta a 9 euro cioè sta di più l'altro tutore pensavo che stesse di più questo qua costa 2 qua costa 2 però devi sacrificare una creatura se non ce l'hai non puoi usarlo questo invece costa 3 però lo puoi usare per essere il grimorio per una carta aggiungere la mano poi rimesco il grimorio per i 3 vite detto ciò passiamo al comparto succoso ovvero le creature questo qui è discepola di zanna antica quando entra nel campo di battaglio ogni avversario scarta una carta e ci sta il mercante regio di Asfodelo che quando entra ogni avversario per 2 vite e 2x è pari alla devozione al nero la nostra devozione al nero cioè il numero di pallini neri che abbiamo in campo in quel momento e noi guardiamo punti vita pari a quanti punti vita sono stati persi in questo modo poi abbiamo la profetessa elfica che quando muore ogni avversario scarta una carta poi abbiamo il ratto predatore quando entra nel campo di battaglia ogni avversario scarta una carta ci sta il predone sacco di carne quando entra nel campo di battaglia ogni giocatore sacrifica una creatura ratte della fortezza ombra questa creatura può bloccare o essere bloccata solo da creature con ombra ogni volta i rati della fortezza infliggono dando un combattimento a un giocatore ogni giocatore scarta una carta quindi questo si può riutilizzare più volte poi c'è il plasma contagio quando il plasma contagio entra in campo di battaglia e un giocatore sacrifica una creatura o un planswalker ogni giocatore che non può farlo scarta una carta ci sta poi abbiamo il demone della profanazione volare all'inizio di ogni combattimento qualsiasi adversario può sacrificare una creatura se un giocatore lo fa tappa il demone della profanazione e mette un segnino più uno più uno su di esso costa 4 un 6-6 in commander è difficile che si sacrificano le cose per tappare un 6-6 però vola può dar fastidio l'inquisitore di firexia quando entra nel campo di battaglia rimette sul campo di battaglia una carta creatura bersaglia dal tuo cimitero per i punti vita per i costi mani partiti con la carta poi la sacerdotessa del dei dimenticati sta a 2,65 euro pensavo che non stessi a niente questa invece ha un piccolo prezzo qualcosina fa sì è carina tappa sacrifica altre 2 creature scelga un qualsiasi numero di giocatori bersaglio uno di esse perde 2 punti vita e sacrifica una creatura aggiungi 2 neri e pesca una carta a costo di 2 creature fa perdere 2 punti vita a un avversario scelga un qualsiasi numero di giocatori tutti gli avversari tutti gli avversari perdono 2 vite sacrifica una creatura tu fai 2 neri e peschi una carta è carina lo spettro della cripta sta a 7 euro circa ha estorsione quindi ogni volta lancia una magia per pagare un nero o un bianco se lo fai un avversario perde una vita e tu guardi altrettanti punti vita e in più ogni volta tappa una palude per tingere mana aggiungi un nero in più alla riserva di mana ed è fortissimo per quello pontefice della rovina ha estorsione e in più le altre creature che controlli hanno estorsione ci può stare poi abbiamo cotto pad accaparratore di anime volare 6-6 costa 6 ogni volta un permanente posseduto da un altro giocatore viene messo in un cimitero da campo di battaglia pesca una carta e perdi una vita sta per pescare attenzione però poi abbiamo strega di landa palustre sta a 4 euro 83 centesimi minacciare word paga tre vite word è quello che word è counter l'abilità si quella che counter l'abilità meno che non paga i tre vite quando viene bersagliata esatto non mi ricordo come si dice l'avversario deve pagare tre vite se no viene neutralizzata l'abilità che l'avversaglia poi c'è magecraft cos'era ogni volta lanci o copio una instant o stregoneria crea un 1-1 peste con quando questa creatura muore guadagna una vita insomma si beh l'ho messa più che altro per fare board e avere creature da sacrificare per pagare le mie cose poi abbiamo Warragoth Warragoth sovrano del cielo di sangue costa 2 euro questo tocco letale e boost tappa 2 un giocatore bersaglio cerca il proprio grimorio una carta poi mescola il proprio grimorio e mette in cima questa abilità però si può attivare solamente se una creatura attaccata in questo turno e solo una volta per turno va bene ci può stare agente dell'opposizione questa è potente questa sta a 12 euro infatti 12,78 costa 3 a lampo controlla i tuoi avversari mentre passano i rassini i propri grimori mentre un avversario passa in assieme nel suo grimorio esilia ogni carta che trova puoi giocare quelle carte fin tanto che rimangono esiliate puoi spendere mana come se fosse mana di qualsiasi colore per lanciarle eh questa qui impedisce agli avversari di rampare cercare tutolare poi abbiamo reggente di Westgate e volare anche questo Ward scarsa una carta vuoi aver iscrivito il bigon target vabbè il counter a meno che l'avversario non scarti una carta quando viene bersagliato ogni qual volta questo qua infine da un combattimento a un giocatore mette il trentanti e più uno più uno su di esso quindi si potenzia sempre diventa un pericolo perché se lo fai passare una volta diventa un 8-8 mi sembra meno ogni volta un giocatore metti altrettanti più uno più uno su di lui quindi la prima volta diventa un 8-8 certo dopo iniziano a dirti eh aspetta che lo bersaglia però intanto si fanno scartare le carte vediamo il cavalcante omicida sta a 1,55 euro pensavo un po' di più è calato bene questo lo si usa come istantaneo subito distruggi una creatura un penswalker bersaglia per i due vite poi vai in avventura e lo puoi rigiocare come creatura con legame vitale che quando muore la mette in fondo al grimorio del proprietario ci sta poi abbiamo Sheldred la bisbigliante molto forte Sheldred la bisbigliante promo così sta a 9 euro normale sta a 14 non so perché sta di più quella normale vabbè comunque dice passa a paludi inizio del tuo mantenimento rimette sul campo di battaglia una carta creatura bersaglia dal tuo cimitero all'inizio del mantenimento di ogni avversario quel giocatore sacrifica una creatura ed è perfetta poi abbiamo Tiny Bones Ticket Thief questa carta dovrebbe costare un qualcosa si sta a 20 euro all'inizio di ogni fine turno se un avversario ha scartato carta in questo turno peschi una carta e perdi una vita tappa 6 ogni avversario che non ha carta in mano perdi 10 vita carino poi abbiamo l'araldo dell'angoscia costa 7 5-5 improvvisare due atti fatti possono metterti a lanciare questa magia tappandoli che ti aggiungono un male esatto volare inizio del tuo sito fase finale all'universario scarta una carta tappa 2 sacrifica un artefatto una cota di bersaglia prende meno 2 meno 1 finito è utile poi c'è l'arconte della crudeltà che sta a circa 5 euro volare 6-6 quando una corte della crudeltà entra in campo di battaglia o attacca un avversario a bersaglio sacrifica una creatura o un planswalker scarta una carta e perde 3 vite tu peschi una carta e guadagni 3 vite quindi questo fa male ogni volta che attacca ecco qua l'unico vampiro che ho lori infestazione di alatorre che sta 1 euro 90 volare a legame vitale che mi piace il legame vitale ogni volta l'infestazione della torre attacca il giocatore in difesa scarta una carta ogni volta una carta viene messa nel cimitero di un avversario da qualsiasi zona mette un signore più 1 più 1 sull'infestazione della torre quindi piano piano si potenzia anche poi abbiamo il confidente oscuro che sta a 21 euro questa carta costa 2 è un 2-1 che dice all'inizio del tuo step rivela la prima carta del tuo rimorio e mettila in mano perdi vita in base al costo di aver convertito quindi al mantenimento guardi la prima te la metti in mano e perdi vita e pari al costo della carta e infine che sta a 8 euro abbiamo Erebus due dei morti indistruttibile fin tanto che la devozione nera è inferiore a 5 non è una creatura gli avversari non possono fare vite noi tappiamo 2 paghiamo 2 punti vite peschiamo e infine passiamo alle terre non base anche nelle terre non base c'è qualcosa di interessante noi abbiamo il tempo della Dea Fasulla che aggiunge 2 incolori quando abbiamo almeno 5 terre il campo della rovina aggiunge incolore oppure lo tappiamo 2 lo sacrifichiamo e distruggi una terra non base contro l'avversario ogni giocatore passa nella scena di Grimorio per una carta base e la mette in campo poi rimescola passaggio di Farabutti aggiunge un colore al serra di mano oppure tappando 4 e tappandola è lungo e tappando 3 e tappando 3 e tappandola e sacrificandola distruggi di vestvalle di vestvalle che costa 4 euro e 50 che mi piace un botto questa carta tappa aggiungi in colore oppure tappa 5 tappa paga una vita metti sul campo di battaglia una pedina creatura a chierico 1 1 bianco e nero poi tappa 5 tappa sacrifica 5 creature trasforma l'avversario di vestvalle poi stappala e diventa ormendal ormendal principe in più con un 9-7 con volare legano vitale indistruttibile rapidità quindi fa tutto lui dopo è forte questa qui dopo abbiamo il castello di lottevenna entra in campo di battaglia tappato meno che non controlli una palude aggiunge un nero oppure tappando 3 tappandola peschi una carta poi perdi vite per il numero di carte che hai in mano per pescare ci può stare poi ci abbiamo la fortezza della cabala che sta tipo 2,80 euro ah c'è il castello di lottevenna 3 euro stava la fortezza della cabala aggiunge in colore oppure tappi 3 tappi aggiungi un nero per ogni palude che controlli palude base qui specifica palude base poi abbiamo urborg urborg tomba di iavgmot ogni terra ha una palude aggiunta su altri tipi di terra e sta a 12 euro 80 circa e poi abbiamo i screen della cabala sta a 13 euro 50 tappa 2 tappa aggiungi nero per ogni palude che controlli molto più forte della fortezza della cabala perché costa 2 per essere attivata e dice ogni palude invece che ogni palude base come la fortezza e queste terre servono di brutto qua dopo abbiamo altre 26 terre base e basta direi che target mi ispira come mazzo devo ancora testarlo ma mi ispira parecchio inviato dalla mente del buon che robe esatto diteci cosa ne pensate se secondo voi può essere potente sembra cattivo sembra cattivo adesso c'è molta immagine di miglioramento lo proviamo e facciamo sapere ho messo in tanta roba che solo perché mi piaceva l'ho messa dentro ma può essere migliorato per essere ancora più cattivo questo pensato per il multiplayer quindi più avversari si hanno e più forti la Liliana che avevo prima neanche in single play non riusciva a fare niente quindi non c'era proprio niente questa qui invece è cattiva molto cattiva e mi piace bene concludiamo qui in questo video esatto e seguiteci ovunque ovunque se avete voglia se avete voglia però seguiteci anche che questa settimana faremo un video anche sabato per recuperare la settimana scorsa che siamo rimasti indietro e niente con questo dio non indistruttibile a tutto eh già purtroppo manca solo quello e al prossimo video un video un video un video Grazie.